È il giorno della verità, l'Avellino ha tempo fino alle 19 di questa sera per presentare alla Federazione Italiana Gioco Calcio in Via Po a Roma il ricorso per riscrizione al prossimo campionato di Serie B dopo la prima bocciatura da parte della Covizoc. È la Group Mania, la società italiana con la quale il club bianco-verde ha sottoscritto una nuova polizza di 800.000 euro obbligatoria per poter partecipare alla prossima stagione del campionato cadetto. Il segretario generale Tommaso Aloisi e le revisori dei conti Lino Vuolo consegneranno a mano presso la sede della FIGC tutta la documentazione richiesta. Non solo la nuova fideiussione, la Group Mania è tra le società più accreditate e ben viste dalla Covizoc ma anche il ricorso relativo all'assicurazione Onix con sede in Romania visto che secondo l'Avellino risulta iscritta regolarmente alla IVAS, l'istituto di vigilanza sulle assicurazioni. Dalla sede dell'US Avellino nessuna preoccupazione, la situazione del tutto sotto controllo e i tifosi possono stare sereni rispetto al prossimo campionato cadetto. Entro giovedì comunque le commissioni delegate esamineranno i ricorsi, ci sono anche quelli di Bari e Cesena ed esprimeranno il loro parere al commissario della FIGC che lo renderà a sua volta pubblico il giorno successivo proprio mentre l'Avellino giocherà a Frosinone l'amichevole con la Roma. Nel caso in cui non dovesse essere accettato il primo reclamo relativo alla Onix resta alto il rischio di un deferimento che in autunno farebbe finire la società bianco-verde davanti al Tribunale federale con il rischio di un punto di penalizzazione.